Papa Francesco ha incontrato a Lavana il leader rivoluzionario cubano Fidel Castro. L'89enne Castro e il pontefice si sono visti a casa del comandante che ha lasciato il potere nel 2006. Il Papa ha regalato a Fidel alcuni suoi testi e una pubblicazione multimediale su padre Armando Llorente, un gesuita che fu docente di Castro 70 anni fa. Papa Francesco ha poi visto a colloquio anche Raul Castro, presidente della Repubblica, e non è escluso abbiano parlato della ripresa delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti, in gran parte mediata dal Vaticano. Il viaggio papale, cominciato a Cuba con un caloroso bagno di folla, alla messa in Piazza della Rivoluzione c'erano 200.000 persone, continuerà nei giorni prossimi negli Stati Uniti, dove oltre ai colloqui con il presidente Barack Obama, è previsto anche un intervento di Papa Bergoglio davanti al Congresso.